Sono 248 miliardi di euro che supportano i recovery plan, illustrato ieri dal premio Taraghi alla Camera. Il primo obiettivo è riparare i danni creati dalla pandemia. Il PIL è caduto dell'8,7%. I giovani e le donne hanno sofferto di più il calo dell'occupazione, stanziati circa 50 miliardi per digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura. Nessun Taraghi all'eco bonus, l'impegno è di estenderlo fino al 2023. Si allarga però lo scontro politico sul coprifuoco alle 22. Questo orario non ha più senso, basta con le chiusure. Critica Salvini, ma il leader della Lega è di nuovo contrastato dal segretario Pidilletta e dal capo in pectore dei 5 Stelle Conte. Deve dire con chi sta o al governo o all'opposizione, attaccano oggi i fratelli d'Italia, presenterà un ordine del giorno alla Camera contro il coprifuoco. Ieri le riaperture di bar e ristoranti all'aperto per le 15 regioni in zona gialla e la provincia autonoma di Trento. I nuovi casi di Covid sono meno di 9 mila e il tasso di positività è salito al 5,8%. Pesante ancora il numero delle vittime, 301. Su fronte ai vaccini prosegue speditamente il piano, mentre l'Unione Europea ha deciso di procedere contro AstraZeneca per le mancate consegne dei vaccini per i 27 Paesi dell'Unione. Dai posticipi della 33esima giornata escono vittoriose Napoli e Lazio. La squadra di Gattuso passa 2-0 a Torino e sale al terzo posto in classifica, superando Juventus e Milan. Rossoneri travolti dalla Lazio 3-0 per i bianco-celesti che così tornano prepotentemente in corsa per un posto in Champions. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del Tg La Sette. Dunque ieri il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha illustrato alla Camera il piano di nazionale ripresa e resilienza. La portata economica del Recovery Plan è di 248 miliardi che serviranno a rilanciare l'economia del Paese in sofferenza a causa della pandemia. Oggi alle 11 il voto alla Camera e poi il passaggio al Senato. Il Presidente del Consiglio presenta il Recovery Plan che poggia su un volume di space record di 248 miliardi. Alla Camera ieri, oggi alle 11 la sua replica con voto finale e il pomeriggio interverrà al Senato. Sono certo che riusciremo ad attuare questo piano, spiega il Premier. Sono certo che l'onestà, l'intelligenza e il gusto del futuro prevarranno sulla corruzione, sulla stupidità, gli interessi costituiti. Questa certezza non è sconsiderato ottimismo, ma fiducia negli italiani, nel mio popolo, nella nostra capacità di lavorare insieme quando l'emergenza ci chiama alla solidarietà, alla responsabilità. Parole esplicite per un Paese estremato dalla pandemia, con un'economia da ricostruire e una fiducia da rivitalizzare, ma anche un monito ai partiti che sorreggono il suo governo ad andare fino in fondo nel sostegno al recovery. Forse, puntualizza Draghi, non ci sarà un'altra occasione per l'Italia. Una compattezza politica che è utile anche nel confronto con Bruxelles, che vigilerà attentamente sulla realizzazione del piano. Draghi infatti avverte, mio più visioni di parte peseranno sulle nostre vite, soprattutto su quelle dei più deboli. La seduta è caratterizzata anche dalle critiche delle opposizioni di Fratelli d'Italia e Sinistra Italiana, che lamentano tempi ristrette per una discussione approfondita dei ricoveri, chiedendo di prolungare i lavori. Ma la conferenza dei capigruppo, convocata da FICO, conferma il calendario. Dall'ampia maggioranza, invece, i partiti scelgono i capitoli del piano da indicare come proprie conquiste. Così il PD rivendica la maggiore attenzione per l'uguaglianza di genere, per i giovani, per la disabilità. Il Movimento 5 Stelle e Forza Italia esprimono soddisfazioni in particolare per il super bonus del 110% rinnovato, anche se con risorse e tempi da valutare nella prossima manovra. Per quanto riguarda la governance del recovery plan, al centro di tante polemiche durante gli ultimi mesi del Conte 2, la scelta è di affidare il monitoraggio sui vari progetti al Ministero dell'Economia, con una cabina di regia per la realizzazione insediata a Palazzo Chigi. Ma un ruolo importante nella vigilanza, spiega il Premier, lo avranno anche gli antilocali, regioni, province e comuni. La presentazione di Mario Draghi, ieri alla Camera, è stata precisa, chiara e dettagliata. Nel servizio cerchiamo di riassumere quali saranno gli interventi previsti da recovery plan e soprattutto la ripartizione delle risorse economiche. 248 miliardi per un rilancio epocale, come lo ha chiamato Draghi. La base operativa sono le sei direttive che arrivano dall'Europa con il Next Generation EU, ma all'interno delle quali l'Italia farà crescere centinaia di progetti per cambiare il volto del Paese. Il cuore degli investimenti arriva dai 191,5 miliardi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza fino al 2026, altri 30,6 dal Piano complementare per gli investimenti che non si è riusciti ad infilare nel recovery. 26 miliardi poi saranno destinati alla realizzazione di opere specifiche come l'alta velocità al Sud, oltre che la Venezia e Milano. Un'ulteriore cifra di 15,5 miliardi arriverà dal Fondo Europeo Sviluppo e Coesione. I due maggiori capitoli di spese sono, come chiesto dall'Europa, la Rivoluzione Verde con circa 70 miliardi, 50 invece per la digitalizzazione come chiave per dare equi opportunità a tutti. Le informe principali toccano la pubblica amministrazione con un primo decreto a maggio e della giustizia con l'obiettivo di tagliare i tempi dei processi civili del 40% e quelli penali del 25%. Ancora semplificazioni e concorrenza con leggi per farle entrare definitivamente in settori strategici come le reti digitali e l'energia. Concorrenza che spiega il Premier non significa solo mercato ma maggiore protezione delle fasce deboli come le donne con misure a favore dell'imprenditorial femminile ed una clausola per l'assunzione delle giovani. Per i ragazzi è prevista la garanzia di stato sui mutui per la casa, rimane l'assegno unico per i figli e il superbonus al 110% per la ristrutturazione edilizia fino al 2022 con l'impegno a valutare la proroga al 2023 con la prossima manovra. C'è infine il potenziamento della sanità territoriale domiciliare a sostegno di chi ha bisogno di assistenza, in particolare gli anziani. Argomento spinoso poi oltre alla governance che rimane saldamente nelle mani del governo e dei suoi ministri, in particolare quello dell'economia, la riforma fiscale che deve vedere la luce entro luglio con una legge telega. E la conferenza del coprifuoco alle 22 rimane argomento di dibattito piuttosto aspro sul piano politico. E ancora polemica sul coprifuoco, una misura irragionevole per Giorgia Meloni che ieri sera, assieme ai deputati di Fratelli d'Italia, ha dato vita a un flash mob a piazza di Montecitorio e sfida gli alleati di centrodestra della Lega a votare insieme l'ordine del giorno che chiede di abolirlo. Se si apre o si chiude lo decide il governo, non gli ordini del giorno, le emozioni lasciano il tempo che trovano, risponde il leader della Lega Matteo Salvini. Fonti del centrodestra a sostegno di Draghi, però in serata, fanno sapere che Lega e Forza Italia sono al lavoro, con spirito costruttivo, per un ordine del giorno finalizzato alla cancellazione del coprifuoco. Proprio la Lega, però, non rinuncia a fare pressione sul governo, anche con una raccolta firme. Già 60.000 le adesioni, dice Salvini, proprio per l'abolizione del coprifuoco, iniziativa che fa infuriare gli altri leader di maggioranza. All'aperturista Salvini risponde il segretario PD Enrico Letta. Una campagna che va oltre la legittima e normale discussione politica, in cui ognuno abbia verso gli alleati un atteggiamento di comprensione, dice l'ex premier Dem, che spinge i leghisti fuori dal perimetro della maggioranza. Anche l'altro ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, leader in pectore del Movimento 5 Stelle, va all'attacco. È intollerabile fingersi all'opposizione, bisogna scegliere da che parte stare, se da quella di chi soffia sul fuoco o da quella di chi si rimbocca le maniche per spegnere l'incendio, scrive Conte su Facebook. Malette Conte che minacciano e insultano, si fidano degli italiani oppure no? La raccolta firme è una spinta dal basso, la replica di Salvini. Intanto ieri prima giornata di apertura, con 15 regioni in zona gialla, non si sono registrate criticità legate agli assembramenti, i dati insomma confermano che il virus è lento calo. Ieri il giorno delle riaperture del ritorno al tavolino del bar per un caffè, della possibilità di spostarsi liberamente, quasi 50 milioni di italiani in 15 regioni tornate in giallo hanno riassaporato il ritorno ad abitudini interrotte da mesi. Aperti cinema e musei, ristoranti e locali a pranzo e a cena col servizio all'esterno. La scuola è ripartita in presenza, ma in molti licei è DAD ancora al 50%. Un percorso che nelle prossime settimane porterà al via libera per piscine, palestre, fiere, convegni. Nelle grandi città il servizio dei trasporti ha retto la prova. Pochi gli assembramenti che invece avevano preoccupato nel weekend quando sono state combinate più di 4.000 sanzioni. Fermo alle 10 di sera il coprifuoco in Trentino, grazie a un'ordinanza locale. Da oggi si potrà rientrare a casa anche dopo le 22. Il paese insomma prova a ripartire con la curva del contagio che però ancora non è domata ma continua a calare lentamente. Dal bollettino di ieri quasi 8.500 nuovi casi con un numero ridotto di tamponi, l'indice di positività salito al 5,8%, sempre alto. Il numero dei morti 301. Il giorno prima erano stati 217 lieve calo della pressione sulle strutture ospedaliere. I ricoveri ordinari hanno meno 27 unità rispetto al giorno precedente. I pazienti in terapia intensiva meno 13. E mentre il commissario straordinario spagnuolo annuncia l'arrivo entro maggio tra i 15 e 17 milioni di dosi di vaccino, la Unione Europea decide di portare AstraZeneca in tribunale. Dopo mesi di polemiche finisce in tribunale lo scontro tra Unione Europea e AstraZeneca per la mancata fornitura delle dosi di vaccino. L'azienda anglo-svedese non è stata capace di presentare una strategia affidabile sulle consegne. È la motivazione della Commissione secondo la quale nel primo trimestre dell'anno AstraZeneca ha consegnato solo 30 milioni di dosi su 120 milioni pattuite. In una nota la Casa Farmaceutica spiega di aver rispettato gli impegni e annuncia l'invio di quasi 50 milioni di vaccino ai paesi europei entro fine aprile in linea con le previsioni. In Italia intanto, dove siamo quasi 18 milioni di vaccinazioni, il commissario figliuolo ha annunciato l'arrivo per maggio dalle 15 alle 17 milioni di dosi, mese entro il quale si potrebbe raggiungere l'immunizzazione della massa critica degli over 65 fragili e aprire così a tutte le altre categorie. Ci saranno vaccini per tutti in maniera parallela. Già da domani saranno in arrivo due milioni di dosi Pfizer-BioNTech con una cadenza settimanale. Secondo le programma, giovedì si raggiungerà la soglia di 500 mila somministrazioni al giorno. Dalle regioni però emerge preoccupazioni legate anche ai limiti di età dell'uso di AstraZeneca e Johnson & Johnson, consigliati agli over 60. Ma l'allarme arriva adesso dall'India. Dopo Firenze, la variante indiana è stata sequenziata ieri in Veneto su due residenti dell'Alto Vicentino. La nuova variante presenta tre mutazioni della proteina Spike, elemento che deve essere tenuto sotto osservazione. Controlli in corso anche nel Lazio ed Emilia-Romagna, dove si sono insediate due delle più importanti comunità SIC. Chiedo scusa al generale Figliuolo, che ho chiamato spagnolo, chiedo Venia. Su tema del lavoro, adesso rimane sempre caldissima la questione legata all'Italia. L'azienda ha preannunciato lo stop degli stipendi, saranno corrisposti soltanto quando arriveranno i fondi previsti dall'emergenza per il Covid-19. Niente busta paga oggi per i dipendenti all'Italia. Gli stipendi di aprile, ha annunciato l'azienda con una comunicazione interna, saranno pagati non appena arriveranno gli indennizi previsti a sostegno dell'emergenza Covid. Nei giorni scorsi il Governo era già intervenuto, stanziando 50 milioni con il decreto ristori, ma finora i continui confronti tra Palazzo Chigi e la Commissione europea sul destino della compagnia di bandiera non hanno dato risultati. Bruxelles deve ancora decidere se dare il via libera al piano per la nascita della nuova società ITA, che prevede l'affitto di una sessantina di aerei da Alitalia. Vanno chiediti in sostanza i dubbi della Commissione sul rispetto delle norme comunitarie. Oggi, in Commissione Trasporti alla Camera, saranno ascoltati il Presidente Francesco Caio e l'amministratore delegato Fabio Lazzarini di Italia Trasporto Aereo sulla predisposizione del piano industriale della società. Anche l'avvertenza Embraco al momento non trova soluzione. Al tavolo convocato ieri dalla Regione Piemonte, FIM, FIOM e WILM hanno ricevuto la conferma dei 400 licenziamenti per i lavoratori dell'azienda metalmeccanica operativi dal 22 luglio, al termine degli ammortizzatori sociali. Il Ministero del Lavoro punta adesso al rinnovo della Cassa Integrazione per guadagnare tempo nell'elaborazione di un piano di salvataggio dei posti di lavoro, ma secondo la curatela fallimentare di Embraco, con l'attività ormai cessata dell'azienda, non è possibile accedere agli strumenti di tutela contemplati dall'emergenza Covid. Ieri intanto le segreterie nazionali di CGL, Cisle e Will, hanno valutato positivamente il piano di riprese e resilienza presentato in Parlamento dal Premier Draghi, giudicando però inadeguato il confronto col Governo per definire le priorità strategiche e le risorse disponibili. Sulla governance lamentano i sindacati, il loro ruolo non è stato ancora chiarito. La notizia di pochi minuti fa, i carabinieri del Comando Provinciale di Catania e del nucleo investigativo centrale hanno denunciato 76 persone per indebita percezione del reddito di cittadinanza, 25 sono persone già condannate per mafia e altre 51, comprese 46 donne, hanno ottenuto il beneficio omettendo di comunicare che nel proprio nucleo familiare c'era anche un congiunto condannato definitivamente per associazione mafiosa. E il caso Grillo continua ad agitare le acque all'interno anche del Movimento 5 Stelle, il video di sette giorni fa nel quale il fondatore del Movimento aveva difeso il figlio Ciro, accusato insieme a tre amici di aver abusato di una ragazza, continua a far dispute. Il caso Grillo ruota ancora, sette giorni dopo, attorno al video del fondatore del Movimento, Beppe Grillo, alla vigilia della decisione sul rinvio a giudizio del figlio Ciro e di tre amici accusati di aver violentato a turno una 19enne milanese durante una vacanza in Sardegna. Le sue parole suscitano ancora prese di istanza politiche e non solo, a sorpresa e per la prima volta parla uno dei ragazzi coinvolti in questa storia, nella trasmissione e non nell'arena, ha dato in forma anonima la sua versione e sul video Beppe dice anche cose giuste, racconta cosa si vede nel video di quella sera, ma sostiene il ragazzo, non doveva farlo, se non ci fosse stato il video nessuno avrebbe parlato di questa storia. Il caso è esploso all'interno di un movimento già sfiancato e in crisi, nel dibattito è entrato anche uno storico esponente, 5 Stelle, che prende le distanze da quelle parole così piene di rabbia. Giancarlo Cancelleri, sottosegretario delle infrastrutture, due volte candidato alla guida della regione Sicilia, dichiara, il grillo che conosco io non avrebbe mai fatto quel video, mi spiace per lui, è evidente che si trova in un momento di grande pressione, anche familiare, più che disperato mi è apparso esasperato. Ed è un altro segnale evidente dello strappo, anche con il garante, il Movimento 5 Stelle cerca una guida in attesa della definitiva discesa in campo dell'ex premier Giuseppe Conte ieri, l'uscita di scena dei referenti di Rousseau, l'associazione, si legge sul blog delle stelle, conferma la direzione di marcia ormai autonoma dal Movimento 5 Stelle, inquadra il futuro osservando del resto che stiamo assistendo già da tempo a un mutamento radicale del modo di fare politica. I futuri referenti, si legge, non saranno più individuati all'interno di una determinata e specifica formazione politica. In chiusura allo sport con il calcio, ieri nei posticipi della 33esima giornata del campionato Serie A, importanti vittorie di Lazio e Napoli rispettivamente contro Milan e Torino, vittorie importanti nella corsa alla qualificazione in Champions League. Intanto la FIGC ha approvato una norma che chiude, almeno per il momento, il discorso Superlega. Il Milan cade di nuovo e adesso si complica la volata Champions dei Rossoneri, sconfitti per 3-0 dalla Lazio e raggiunti al terzo posto anche dal Napoli. Il feroce avvio dei Bianco Celesti manda all'aria i piani tattici di Pioli. Correa colpisce dopo neppure due minuti di gioco, gettando le basi per il decimo successo di fila in casa in Serie A, come nel 37 e nel 74. Senza l'infortunato Ibrahimovic, la UEFA ha aperto un'inchiesta sulla società di scommesse dello svedese. Il Milan non punge e nel secondo tempo la Lazio dilaga. Correa fa doppietta, rete convalidata dal VAR, che giudica regolare un precedente intervento di leva su Cialanoglu. E allo scadere c'è gloria pure per immobile. Con una gara da recuperare, la Lazio sale così a 61 punti, a meno 7 dall'Atalanta seconda e a meno 5 da Milan, Juventus e Napoli. Due squadre su 5 resteranno fuori dalla prossima Champions. Intanto, altra spettacolare vittoria dei partenopei sul campo del Torino. Il vantaggio di Bakayoko e il micidiale contropiede di Ossimen sorprendono i Granata, storditi da due reti nei primi 13 minuti. La formazione di Gattuso non si ferma e soltanto il palo salva la porta di Sirigu sulla conclusione di Zielinski. Stesso copione nella ripresa, il Torino abbozza una timida replica. A creare le occasioni migliori però è sempre il Napoli. Il palo ferma in signe, mentre sul fronte opposto giornata no per Belotti, sostituito nel finale, quando Nicola si ritrova anche in 10 per l'espulsione di Mandragora. Torino terzultimo con Cagliari e Benevento, ma con una partita in meno. Lo sprint salvezza resta incerto, netta invece la posizione della Federcalcio sulla Superlega. Chi aderisce a competizioni organizzate da organismi privati non riconosciuti da FIFA e UEFA non può iscriversi al campionato. Si legge nella norma proposta dal presidente Gravina è passata con il voto unanime del Consiglio federale. Favorevole anche Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, uno dei tre club italiani che aveva aderito al progetto insieme a Juventus e Milan. Ed ora dopo di noi Valeria Colombo per Autostrade per l'Italia che ci informa sul traffico, poi di nuovo Paolo Sottocorona con gli aggiornamenti sul meteo. A seguire vi ricordo di non perdere il battito di Omnibus condotto da Gaia Tortola. Grazie e buona giornata. Grazie.